Possiamo ufficialmente dire che questa edizione del Grande Fratello 2018 ha ritoccato il fondo. In cassa non è successo niente, almeno relativamente, ma sicuramente fuori l'onda d'urto di quello che è successo con Bayadame, a idanizzare il cosiddetto clan sembra aver causato non pochi problemi alla produzione. Proprio in queste ore 3 degli sponsor presenti in cassa hanno detto no a questo clima di violenza e bullismo visto in queste settimane e hanno ufficialmente preso le distanze da quanto sta accadendo in cassa e in tv, settimana dopo settimana. Con tanto di comunicati ufficiali che spiegano le loro decisioni e che si allontanano dal clima di violenza e di branco che si respira in casa, Bellaoggi Italia, Fratelli Beretta e Aran Cucine hanno fatto sapere che non saranno più sponsor ufficiali di questa edizione proprio per via di quello che è successo. Proprio ieri sera, Bellaoggi ha usato Facebook per pubblicare il suo comunicato ufficiale in cui si legge, Bellaoggi si dissocia formalmente dagli atti e dai comportamenti da ultimo registrati nell'ambito dell'attuale 15 edizione del Grande Fratello. Comprende profondamente la reazione dei suoi consumatori, fanne di ogni voce che si è sollevata sui social networks rispetto a tali ultimi accadimenti. In Bellaoggi lavoriamo quotidianamente per proporre un mondo di bellezza, unico, concreto ed accessibile a tutti. Siamo convinti che la bellezza non potrà mai esistere accanto a nessuna forma di violenza o discriminazione. Virgola comunica, con effetto immediato, la decisione di interrompere ogni attività di sponsorizzazione di questa edizione del Grande Fratello. L'azienda ha comunicato che ogni riferimento al Grande Fratello sulle proprie pagine o negli sponsor saranno subito rimosse proprio per evitare ogni tipo di coinvolgimento in queste situazioni presenti o future. All'azienda si sono associate anche Arancucine e il salumifio Fratelli Beretta. In particolare, la prima su Facebook fa sapere che condanna fermamente ogni forma di violenza e ogni atto di bullismo senza se e senza ma. Cancellettono al bullismo. Rimanere immobili e silenti di fronte tali gesti alimenterebbe l'indifferenza nella quale si perpetrano determinati comportamenti insani, cosa completamente estranea ai brand values di Arancucine e Iberetta con un tweet rispondono agli utenti ribadendo lo stesso concerto Salumificio Fratelli Beretta ricorda che il rispetto delle donne e il disprezzo per qualsiasi forma di violenza o bullismo sono valori fondamentali e imprescindibili dell'azienda e si dissocia dal comportamento e dall'atteggiamento di alcuni giovani durante la trasmissione. Cosa succederà adesso al Grande Fratello 2018? Barbara D'Urso dovrà comunicare questa cosa ai concorrenti oppure si farà finta di niente?